Oh fratello, che hai fatto di una bagnarola che tu vienes a pagare dai cimici che puoi ad annudare? Eh... Ho bisogno di parlarti di quel mestiere la, della pupa e del manuale... Icoli... Tantassi... Vieni... Tantassi la scala... Tu dovrai ristaurare la chalupa... Ti piacerebbe a capire... Il mio successo è un vergotto, fratello... Tu... Ho visto un sacco di icoli questa notte... C'era qui a dormire, mi sono svegliato fuori che vi è nato il mostro che mi diceva degli pali dolci... Eh... Fra di lì... Mi te l'ho detto subito... Mi ha dato chiamare un gamba, un specialista... Mi ho chiamato il funzionario... Guarda che se non arriva mica a far andare con la pupa... Mi vado a giocare... Mi torna in Valtellina con la cuo tra le gambe... Che dici... La parla a Cier che il funzionario è la di Roma... Però il mestiere è per farsi... D'una mattina ti andai a parlare anche l'altro... Te che spiega il bel problema... Te che dimostrate che te... Te che... Intenzione a risolverla... Il cazzo di una faccenda... Puoi funzionare... Su quel tuo manuale... La pompa... Ah... Sei arrivato eh... Spiega tutto alla segretaria... E... Non mi rompe il cazzo... Va... Ma ha chiamato tuo fratello... Vosti cazzo di Valtellinesi... Che vi mangiate la notte... Vi sognate i maiali con le palle... Ma stai che sentire sul funzionario... Guarda che non ho più di ciulazione... Ho visto un vecchio... Calma di sera che sei in tre... Eh eh eh... Le ciulazioni... Ma le ciulazioni... Ma le vorremmo avere tutte le ciulazioni... Come ce le hai avute te... Cazzo è stata montata la pompa... Il manuale... E cerchiamo di risolvere... Sto stronzo... Hai da cambiare l'olio... E' certo che lo devi cambiare... La mia... Allora ragazzo... Qui stiamo parlando del futuro... Questa è una pompa di nuova concezione... Occhio occhio... Levate un attimo che arriva il tracker... E' una pompa rivoluzionaria... Perchè è stato tolto il pistone... E ci hanno messo la girante... Mo... Non scendiamo nei dettagli tecnici... Perchè io non ci capisco un cazzo... La farò un po' acca rivoluzionaria... Perchè se è arrivata a inviarla... E' il futuro... Vado un po' qui... Come la facciamo questo manuale... Ma che cazzo l'ha scritto questo coso... Non si capisce il cazzo... Ah... Tu sei chato... Vedi che è complicato... Ho finito avuto inculini... Erano ciuli nazioni... Inculi... Ciuli nazioni... Le stesse... C'è stato male... E' anche il di dopo... sull'incendio... Non mi ha sperato un fratto... Che mi diceva che sarebbe... Come le valli del ciù... Cazzo... Hai ragione... Qui ci vuole uno specialista... Ecco... Domani ci andiamo...